Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa contemporanea, dove il tema centrale è il rapporto tra creatività, autenticità e natura. Il romanzo esplora il valore dell'ascolto interiore e della semplicità come fonti di ispirazione e rinnovamento. Il messaggio è che per ritrovare se stessi e la propria creatività non servono esperienze straordinarie o rischiose. Ma la capacità di vivere a pieno il momento presente e accogliere ciò che la vita offre, anche nei suoi aspetti più quotidiani. Leggere questo libro è un invito a riflettere sulla necessità di rallentare, di allontanarsi dal frastuono e di riscoprire l'essenziale. Attraverso la scrittura vivida e il viaggio del protagonista, il lettore è guidato in un cammino parallelo, verso una maggiore consapevolezza di sé e del mondo naturale. La trama del libro Bosco XXIII Hai mai incontrato Ophelia Crou, della scrittrice Benedetta Perissi, pubblicato dalla casa editrice Bookabook, è la seguente. Non riuscire a prendere la penna in mano è l'incubo peggiore di ogni scrittore, è quanto accade ad Arnosh, che del suo particolare nome ha fatto un punto di forza, ma che non riesce a liberarsi dalla necessità di vivere emozioni forti ed estreme, al limite del rischio. Priva di stimoli adrenalinici, la sua vena creativa sembra essersi prosciugata. Per questo il suo editore e amico, Thomas, lo spinge ad affrontare il Sentiero XXIII, un cammino tra Toscana ed Emilia Romagna, fatto di tracciati dolci e privi di adrenaliniche sorprese. L'imprevisto arriva invece sotto forma di un incontro strambo, che sembra mettere alla prova ogni credenza di Arnosh. Percorrendo il Sentiero XXIII, tra lupi, cipressi, labirinti di rose e cervi imponenti, Arnosh scoprirà che cosa significa davvero vivere la natura e, soprattutto, ascoltare chi sia davvero. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.